Buonasera cari amici telespettatori, ben ritrovati a Fano TV per un nuovo appuntamento su approfondimento. Questa sera abbiamo in redazione il direttore generale dell'Istituto Credito Cooperativo di Fano, diamo il benvenuto al direttore Giacomo Falcioni. Grazie, buonasera e grazie anche per l'opportunità di condividere l'andamento e l'iniziativa della banca. Bene direttore, io direi di entrare subito nel tema. BCC di Fano ha chiuso il bilancio 2022 con quasi 6 milioni di utile. Dati pre-Covid che consentono di guardare con buona fiducia al 2023? Sì, un ottimo utile di 5 milioni e 900 mila euro. L'utile per una banca di credito cooperativo è fondamentale perché riusciamo a autofinanziarsi e questo è imprescindibile per continuare a svolgere il proprio ruolo di raccolta del risparmio e l'erogazione del credito a famiglie e imprese. Il patrimonio ha superato i 105 milioni di euro e il Cetuan, cioè l'indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE, è stato del 28,5%, oltre 10 più rispetto ad appena 4 anni fa. Positivi sono anche l'andamento della raccolta totale che ha raggiunto un miliardo e 305 milioni, gli impieghi verso clientela a 578 milioni e questi dati denotano una ripresa degli investimenti e un buon andamento dell'economia locale. Nonostante le difficoltà, nonostante le preoccupazioni per il futuro, il 2022 ha dato risultati economici positivi. In miglioramento anche la qualità del credito, oltre ai dati operativi che rispecchiano quello che è la dinamicità del territorio, perché è ripresa anche i dati relativi alla monetica, abbiamo oltrepassato i 30 mila conti correnti, 33 mila clienti e soprattutto 9.300 soci, quasi un terzo della clientela. Colgo l'occasione, vista questa opportunità, per ringraziare tutti i colleghi dipendenti della banca per l'impegno e la grande professionalità dimostrata e il consiglio di amministrazione per il suo ruolo di guida e sostegno. Quindi l'obiettivo per il 2023 è di continuare a migliorarci e di operare nell'interesse di soci, risparmiatori e tutti gli stakeholders del territorio. E l'obiettivo, al di là dei numeri di breve termine, la nostra mission è creare valore. Creare valore nel medio-lungo termine in un concetto di sviluppo sostenibile. Si parla molto di ISG, sostenibilità, è un concetto importante, ormai lo faremo proprio anche negli investimenti finanziari che devono essere sostenibili, nelle pratiche di affidamento, ma quando parliamo di sostenibilità a volte è una sezione negativa. Io la metterei in positivo nella creare valori. Creare valore vuol dire essere propositivi insieme a tutti gli interlocutori del nostro territorio. Direttore, tre anni fa l'ingresso di BCC Fano nel gruppo Icrea. Che bilancio traccia? Sicuramente un bilancio positivo, anche se è stato impegnativo. Sono stati impegnativi anche questi tre anni, anche perché tra l'altro hanno coincidito con la pandemia. Positivo perché ci ha permesso di offrire alla clientela prodotti e servizi competitivi, superando anche le piccole dimensioni di una banca locale e territoriale come la nostra. Altri aspetti importanti, ha rafforzato le sinergie con altri BCC del territorio e anche nel discorso del sistema rete nazionale abbiamo avuto l'opportunità di mettere a fattore comuno le specificità dei nostri territori. È un po' caratteristico dell'Italia, tanti territori simili ma anche nello stesso tempo diversi tra loro e come banche vogliamo promuoverli e metterli a fattore comuno. Impegnativo perché chiaramente come gruppo siamo entrati nella vigilanza europea come banca significant, quindi importante, e abbiamo le stesse norme uguali a tutti i grandi gruppi bancari europei. Questo vuol dire applicazioni di norme importanti e anche, direi ahimè, non proporzionali alle ridotte dimensioni di una banca territoriale come la nostra, anche semplice perché in termini di operatività. Questo in parte limita l'autonomia di azione ma noi facciamo di tutto per ribadire l'importanza della vicinanza alla prossimità del territorio, dal CDA, dalla direzione, tutti i dipendenti e cercando di preservare al massimo la nostra autonomia. E direi che in questi tre anni ci siamo riusciti grazie anche all'andamento positivo della banca perché l'autonomia è anche legata alla positività dei dati aziendali. Direttore, come continuare a tradurre questi numeri in azioni concrete a favore di famiglie e imprese? L'aspetto principale, chiaramente, e le due direttrici sono il sostegno al credito a famiglie e imprese, quindi consulenza e prodotti adeguati alle esigenze della clientela, dal tradizionale mutuo prima casa, finanziamenti all'impresa con particolare riferimento agli investimenti, i sistemi produttivi, organizzativi, personale e anche iniziative specifiche per superare momenti di difficoltà. Penso ai finanziamenti Covid e sospensioni di muti in determinati momenti difficili. E un tratto comune è quello della consulenza qualificata e personalizzata, sia nella gestione del risparmio, soprattutto in un momento dove i mercati finanziari e economici non sono semplici da leggere. Altro canale è quello della protezione, quindi la banca assicurazione per la famiglia, per la casa, ahimè anche per gli eventi atmosferici, abbiamo visto che il terremoto alluvioni sono ricorrenti, quindi è giusto proteggere i beni principali di ogni famiglia. Altro aspetto è quello della previdenza complementare, ad integrazione del sistema pensionistico che chiaramente riduce il proprio impatto. L'ultimo aspetto che volevo sottolineare ed è importante, su cui puntiamo molto, è il welfare aziendale. Sono piattaforme e servizi per cogliere al meglio le opportunità fiscali. Tra pandemia, conflitto, Est-Europa, conseguenti rialzi dei tassi, seppur controllati da BCE, anni non facili, cui BCC Fano però ha risolto in maniera sempre puntuale, mantenendo l'istituto solido, infatti è stata definita banca in buona salute, e preparato anche sotto l'aspetto formativo e organizzativo aziendale per le sfide del territorio. Il peggio possiamo ritenercelo alle spalle, direttore? Non è una domanda semplice. Chiaramente siamo abituati a un susseguirsi di eventi straordinari in questi anni, veramente uno o dopo l'altro, dalla pandemia al conflitto russo-ucraino, all'inflazione, tutti elementi che chiaramente ci costringono ad assumere iniziative specifiche e spesso cambiare strategie in corsa, quindi non cambiare la mission, però chiaramente nel momento dare risposte adeguate. Tre anni di pandemia, sono stati anni difficili, anche di tensione, alcuni aspetti positivi che voglio segnalare, perché sono state occasioni di crescita per la nostra banca, l'incentivazione dell'operatività telematica a distanza e uno sviluppo di una maggiore automazione, ad esempio abbiamo introdotto una o più casse automatiche in tutti gli sportelli, a fianco chiaramente delle casse tradizionali che continuano ad essere a disposizione della nostra clientela. Altra occasione è stata la proposta della consulenza, la clientela, il suo appuntamento, questo per valorizzare e dare maggiore attenzione alle esigenze personalizzate di ciascuno. Parlavo del conflitto russo-ucraino di un anno fa, che ha generato un aumento di prezzi, delle materie prime, dei prodotti energetici, in parte rientrato fortunatamente, ma chiaramente siamo attenti a tutti gli sviluppi. Questo ha generato la spirale dell'inflazione, abbiamo visto nell'ultimo anno inflazione a doppia cifra, che non abbiamo visto negli ultimi decenni, attualmente siamo al 9,1% in termini di inflazione annuale, anche se negli ultimi quattro mesi, leggendo attentamente come facciamo noi i dati mese per mese, abbiamo visto un rallentamento e speriamo di avere conferma nei prossimi mesi. Questo ha generato anche un aumento repentino e in parte, dico anche esagerato, dei tassi di interesse. Chiaramente sono tutte manovre che le banche centrali mettono in campo per combattere l'inflazione, ma poi generano impatti importanti sull'economia. Anche su questo aspetto siamo molto attenti a valutare anche le eventuali difficoltà e trovare delle contromisure. Anche su questo confidiamo in un rientro, perché poi ci sono anche segnali, anche di fronte alla difficoltà dei mercati finanziari e economici, per rallentare l'aumento dei tassi. Almeno nella politica dell'annuncio, perché ormai i tassi si muovono sulle aspettative. Nell'ultima settimana abbiamo visto una riduzione delle aspettative del tasso Euribro, che è un po' il parametro di riferimento per i tassi di mercato, per i presti, in prospettiva, quindi non nell'attuale, di 1,2%. Questo vuol dire che nel giro del medio termine dovrebbero ritornare su dati molto più in linea con le possibilità e l'equilibrio del mercato. Chiaramente di fronte a tutte queste tensioni economiche e dei mercati finanziari occorre mantenere la calma, prima di tutto, e ragionare con il giusto equilibrio, cercando di evitare gli eccessi, questo è importante, anche con riferimento al mercato immobiliare. BCC continua a crescere in termini di clientela, oltre 33.000 clienti e 9.300 soci. Grande sentimento di fiducia da parte del territorio e soprattutto da parte dei giovani, che BCC ha individuato come un patrimonio attorno al quale costruire una strategia chiara e ricca di vantaggi. In che modo, direttore? Il ruolo centrale dei soci, che sono il patrimonio più importante della nostra banca, abbiamo un numero importante anche in riferimento alle altre BCC, quindi è stata una strategia messa in atto da tanti anni, che ha permesso a tanti soci di entrare a far parte della nostra compagine, dedicando prodotti e servizi a condizioni vantaggiosi, ma anche accompagnando con numerose iniziative promosse per tutta l'età. Lo ripubbliceremo in una brochure specifica, veramente sono tante iniziative, avremo modo di condividerle in sintesi. Dopo l'interruzione, a causa della pandemia, abbiamo ripreso anche con gli appuntamenti per l'accoglienza dei nuovi soci. È un momento molto bello di presentazione, di conoscenza, di confronto, e quindi è un'occasione importante per la banca e spero anche per i nostri soci. Il prossimo 23 aprile avremo l'assemblea annuale, di nuovo in presenza, anche qui siamo stati tra le prime BCC a riprendere in presenza già dall'anno scorso. Per quanto riguarda i giovani, io direi che i giovani non sono per noi il futuro, sono i presenti, 1500 giovani soci con un gruppo BCC di Fano molto preparato, molto attivo e una sede prestigiosa, B-Link, aperta l'anno scorso in zona Lido. A proposito di giovani, nel settembre scorso le Marche hanno ospitato il Forum Nazionale dei Giovani Soci e la settimana scorsa proprio a Fano si è tenuto un evento di due giorni intitolato Maestri e Maestre di Buona Finanza, con l'obiettivo di trasmettere proprio ai giovani criteri di una buona finanza, di una finanza cooperativa e responsabile. Puntare sulle giovani generazioni è importante, vero direttore? È fondamentale. Noi iniziamo presto, iniziamo dalle scuole, con il progetto Cresce nella Cooperazione, nella logica di un'educazione finanziaria, di un'educazione anche alla cooperazione che si conosce poco perché ci sono tante forme di imprese, la cooperazione va valorizzata e attraverso anche poi le varie iniziative, banca famiglia, bonus bebè per le nuove famiglie, le borse di studio per i figli dei soci meritevoli, avremo un appuntamento proprio il prossimo 12 aprile e anche accompagnando con dei prodotti bancari specifici, penso ai prestiti universitari e conti correnti dedicati ai giovani. E stiamo per lanciare una nuova linea di conti dedicata ai minori. Oltretutto la banca punta sui giovani anche a livello di compagine dei dipendenti. Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto la possibilità di assumere 17 nuovi ragazzi in una logica di turnover equilibrato per ricercare un mix tra esperienza ed innovazione importante per continuare a crescere. Bene. BCC Fano è protagonista in discussa assoluta di eventi, manifestazioni, iniziative culturali su un territorio molto vasto che va da Fano a Senigallia abbracciando anche una grande fetta di entroterra. L'attenzione al territorio che si traduce in un volano fondamentale per l'economia locale. Sì, nel concetto che dicevo prima di creare valore per il territorio rientro anche le sponsorizzazioni che sono fondamentali per creare indotto economico in favore delle attività locali. Nel 2022 abbiamo investito 331 mila euro. Sostegno ad eventi che distinguerei di due categorie. Sono alcuni eventi e manifestazioni di diverso genere più a carattere locale, importanti per mettere in relazione appunto le persone del territorio, ai fini ricreativi, per il viver bene della comunità. Poi ci sono altri eventi che invece tendono a promuovere il territorio a livello nazionale direi anche internazionale, dall'ultimo carnevale fino agli eventi prossimi come la Colle Marathon, la Cori Lucrezia, Brodetto Fest, Passaggi Festival, Jazz, Summer Jamboria Senigallia, quindi tanti eventi tesi a promuovere Fano e il proprio territorio. Quindi ecco su questo un focus particolare sul turismo direi. Chiaramente Fano oltre all'offerta estiva particolarmente apprezzata va valorizzata ancora di più nei suoi tratti storici, Fano medievali, Fano romana, proprio alla vicenda della Basilica di Vitruvio, grande eco in questi giorni a livello nazionale e internazionale ci fa capire l'importanza dell'offerta di Fano su questo settore. Già noi nel 2011 come banca abbiamo contribuito a illuminare le mura nell'anno del centenario e proprio l'anno scorso è stato rinnovato il totem vitruviano insieme al centro studi. Quindi anche su questo aspetto ci vogliamo affiancare al territorio, chiaramente non sostituire ma affiancare per cercare di promuoverlo al meglio. Un buon lavoro di sinergia con il territorio, senz'altro è un binomio funzionale perfetto, giusto direttore? Sì, nella logica di fare rete. Siamo abituati a livello bancario come dicevo prima, ma è opportuno farlo anche nel territorio e tra territori perché l'offerta turistica chiaramente deve essere ampia, integrata, composita e bisogna mettersi insieme con altri territori e quello marchigiano offre tante opportunità. Infatti il BCC Fano anche per tradizione storica è molto vicino all'associazionismo, allo sport e al sociale. Anche questo è un modo per creare sviluppo e benessere a livello locale? Sicuramente, siamo presenti in tanti sport, in tutti gli sport, con prevalenza però dei settori giovanili per questa caratteristica, nella logica anche di agevolare dell'escrizione, le varie attività sportive ai figli dei soci con una opportuna scontistica e chiaramente valorizzare quello che è il vivere bene il territorio, la diffusione, la promozione di valori sani come quelli dello sport e dello stare insieme. Oltre chiaramente a sostenere tutte quelle iniziative sul territorio, penso alla sanità, le azioni solidali, l'istruzione, chiesa, cultura e anche qui abbiamo investito oltre 225 mila euro nel corso del 2022. Ringraziamo il direttore per il suo intervento e ringraziamo i telespettatori e auguriamo un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie a voi, buonasera a tutti.